In una pescara che lentamente riparte, il mercato di Campania Mica quest'oggi ha riaperto i battenti, prodotti come sempre stagionali a chilometro zero, ma oggi nell'iniziativa della Coldiretti è proposto anche l'Agri Bag, una merenda contadina per un picnic. E' all'aperto infatti, come conferma l'Istituto Superiore di Sanità, che le persone possono interagire tra loro serenamente. Sì esattamente, oggi è un'apertura speciale, proprio in ricorrenza del primo maggio, e in questa giornata vogliamo proporre le nostre nuove Agri Bag, che sono delle composizioni con dei prodotti a chilometro zero delle varie aziende agricole che sono presenti in questo mercato. Con questa nostra proposta riusciamo a promuovere i nostri prodotti, farli conoscere alle persone e soprattutto le possono assaggiare e degustare all'aria aperta come è previsto dal decreto. Un'occasione, quella della merenda contadina, nella giornata del primo maggio, anche per far conoscere i prodotti della nostra terra e le eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Nella nostra Agri Bag proponiamo prodotti a chilometro zero, tutti freschi e soprattutto di stagione. Abbiamo le fave, la pizza scima, un dolce della tradizione abruzzese, il poconotto, un vino fresco, dei fiadoncini e l'olio extravergine di oliva. Com'è stato quest'anno per il comparto agricolo? Diciamo che è andata bene. Comunque i generi alimentari sono beni di prima necessità e noi abbiamo cercato di mantenere un certo equilibrio, di restare sempre aperti e accontentare i nostri clienti.